Dove sei? Io sto facendo un video Di cosa? Il titolo lo metterò Sono il 2008 più bravo a editare con cerchio Io vedrei la gente che risponde Secondo me c'è l'edit quando l'edit c'era aperto Mazzos Sì Ma perché non metti domani una live e mettere l'aprio? Eh? Eh? Domani una live se vuoi Che mettere l'aprio? Capito? Perché è fattato? Perché devo andare nexos Ok Mentre Brass Ciao 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 Selenia Ciao 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 ricetta ok se lei non trasmette le ultime pompilità e sì media quando trapacea. lavoro muolo t c armonia sono ufficiale cioè la loro staff non ho fatto solo tiro ma poi niente dai mi ha preso solo uomo ok no ok ragazzi facciamo l'ultimo fight e poi scrivetemi qui sotto se sono più bravo a modificare quel testo in Italia bambino ovviamente perchè adriamo da frente che ponte che ponte che ponte che ponte che ponte no no sei one shot lo sai anche tu che sei one shot anzi anche te raga raga finchè non lo faccio a ponte raga 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 Ragazzi, ci vediamo l'ultima volta che come va, ma se finisce male, chiudo il video. Eh, vabbè, ragazzi.